Un caro saluto a tutti da Marzia di hobbyshopbomboniere.it Questi bellissimi segnaposto che sono realizzati con il nastro bianco e diverse tonalità di verde Con il portachiavi croce, tau e perle e il calice simbolo della prima comunione sono pronti Sono stati terminati dal nostro laboratorio perché le facciamo tutti noi uno per uno Portachiave per portachiave, fiocco per fiocco Quindi lo possiamo personalizzare a vostra richiesta E ora verranno imballati con cura e belli a volte anche con la carta, con la bolle, quella proprio per proteggerli Perché sono pronti per essere spediti Il festeggiato li riceverà a breve Saluti a tutti!